Colgo l'occasione per precisare che tutte le video recensioni fatte sui miei canali social sono recensioni non in collaborazione con le aziende, altrimenti lo avrei specificato come è capitato altre volte quando ho ricevuto prodotti dalle aziende e sono quindi tutti i prodotti acquistati da me. Ciao, bentornato sul canale. In questo video ti mostro una video recensione di un prodotto che ho acquistato da Penny Market e sto parlando di questa crema spalmabile. Questa crema spalmabile è un prodotto a base di soia. Il marchio è Soia Life, è un prodotto senza glutine. Crema spalmabile alla soia. Andiamo a leggere cosa c'è scritto sulla confezione. Crema spalmabile con nocciole e cacao e soia. Ingredienti Zucchero Oli vegetali Palma e girasole Nocciole 14% Farina di soia tostata 9% Cacao magro in polvere 8% Emulsionante Lecetina di soia Aromi Può contenere tracce di frutta a guscio e latte Conservare la temperatura ambiente Da consumarsi preferibilmente Vedi il tappo E infatti sul tappo c'è La Si vede niente con la luce Sul tappo c'è la data di scadenza Dichiarazione nutrizionale Valori nutrizionali medi per 100 grammi di prodotto Energia 2200 kJ Su 527 calorie Grassi 30 grammi Di cui acidi grassi saturi 9,0 grammi Carboidrati 56 grammi Di cui zuccheri 51 grammi Fibre 4,0 grammi Proteine 6,8 grammi Sale 0,10 grammi Prodotto in Italia per Atlante SRL Via 2 giugno 1946 Numero 8 40033 Casa Lecchio di Reno Bologna Il prodotto è venduto in un bicchiere di vetro E contiene 200 grammi di crema spalmabile Questa confezione viene venduta al Pneumarket per 1,49 euro Io ho già recensito altri due prodotti Come questo, altre creme spalmabili Una era la Rigoni di Asiago senza latte E l'altro è la crema spalmabile dal nome impronunciabile Quella tedesca comprata a Lidl La differenza tra queste tre creme spalmabili è che questa qui è a base di soia Mentre le altre due no Anche in questo caso posso dire che sono soddisfatta di questo prodotto E quindi è una recensione positiva Perché posso utilizzarlo per preparare dei dolci O anche per la prima colazione va benissimo Spalmato su le fette biscottate da inzuppare nel latte per esempio Oppure su una fetta di pane per una merenda pomeridiana È un dolce sfizio Il mio video termina qui Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto E spunta anche la campanella per non perdere i prossimi video Resterai sempre aggiornato e riceverai una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video E per sostenermi non dimenticare di lasciare un like al video Per seguirmi sui canali social ricordati di iscrivere a chiocciola Stephanie Club Ovviamente tutte le videoricette e tutti i miei video sono pubblicati sul mio sito internet www.stefaniclub.it Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!